Puoi scegliere di sprecare o puoi scegliere di riusare. Quante volte ogni giorno ci accorgiamo che stiamo sprecando qualcosa? A volte è il tempo, a volte è un'occasione. Ad esempio, hai mai pensato che anche la confezione delle cartucce potrebbe essere riusata? Con EcoStore puoi scegliere di riusare. Per questo EcoStore ha scelto di dire basta agli sprechi, ridando una nuova vita alle confezioni delle cartucce Inkjet. Perché con ResPack, riciclabili al 100%, ogni volta che riporti al punto vendita la confezione della tua cartuccia, fai del bene all'ambiente e ottieni uno sconto sul successivo acquisto. E poi in futuro ogni prodotto EcoStore sarà confezionato in ResPack, un circolo virtuoso di cui tu fai parte e dove EcoStore è al tuo piatto. Perché basta un piccolo gesto per fare grandi cose.